ciao a tutti lettori di bettaste.it sono andrea e sono qui con francesco alò all'isola tiberina all'isola del cinema per parlare di un film in uscita un film molto importante che è di amazing spider-man e di mark webb questo reboot molto importante questo reboot molto importante persone estremamente aggressivo fantastico allora ti è piaciuto mi devo adeguare un attimo scusate degli occhiali per favore che ti è piaciuto mi sento anche io più cool in questo momento ok amazing spider-man di mark webb non like it non ti è piaciuto parliamone perché invece a me è piaciuto quindi bocci picchiamo come si suol dire tu dimmi perché ti è piaciuto allora mi è piaciuto perché intanto mi è piaciuto molto forse mi aspettavo molto poco mi è piaciuto molto la regia lo stile di regia l'ho trovato abbastanza ricco di inventiva originale il 3d l'ho visto curato molto bene e mi ha stupito il fatto che un regista che ha fatto sostanzialmente solo un longometraggio una commedia anche se anche quella ricca di inventiva come 500 giorni insieme si è riuscito a gestire un colossal di questo tipo con un budget simile con una eredità simile alle spalle come la trilogia di sembra imi e in più la cosa in assoluto che mi è piaciuta di più è il cast secondo me andrew garfield assolutamente in parte sono riusciti a fare una un episodio nuovo un nuovo spider-man tratto come nei fumetti cioè come quando hanno iniziato ultimate spider-man che era una nuova una nuova serie un reboot anche quello anche in questo caso sono riusciti a fare qualcosa di nuovo su del materiale originale che in realtà è un po sempre lo stesso anche se hanno cambiato alcuni personaggi quindi a me è piaciuto allora io sono molto intimorito da bernie in questo video perché lo trovo veramente in forma smagliante molto molto duro mi sembra veramente un eroe di un film di john carpenter degli anni 80 quindi sono anche allora prima cosa io non sono troppo vecchio e non capisco il reboot a cinque anni di distanza dal dal terzo episodio di una saga con altro cast artistico altro cast tecnico quindi ho proprio penso di trovarmi in penso di avere o non so se è un mio problema o un problema proprio culturale d'altronde questo è il primo esperimento io non so se anche andrà beh di un reboot così vicino così vicino che non ci sono costantemente ribuio andrea non francamente non capisco poi in un'epoca in cui ci sono i dvd e quindi la memoria storica di di una storia rimane non capisco perché io se fossi un bambino non amerei vedere un mio eroe c'è un personaggio importante di una cosa di un'avventura che mi ha emozionato cambiare faccia in conto che in dieci anni però è cambiata una generazione cioè io ho visto il primo spider man che avevo 17 anni e è stato il film della mia generazione credo fin di supereroi della mia generazione la trilogia di supereroi che della mia generazione insieme a x-men forse e sinceramente adesso è un'altra fase cioè i giovani di questo film si rivolge ai 17 anni secondo me di oggi nel 2012 io non ho più dice come sono i 17 non lo so io non non riesco proprio a capire tutte le mente conoscono la trilogia di spa sicuramente conoscono la trilogia di spider man originale però possono essere attirati da un film diverso perché comunque diverso da sembra il mi è completamente diverso io ho trovato quasi nulla in comune con anche la poetica di raimi insomma diciamo che ci sono i genitori però un po troppo all'inizio un po troppo poco alla fine quindi mi ha disturbato a proprio nella storia anche nella testa del personaggio non è un film perfetto comunque c'è anche di sceneggiatura l'ultimo il terzo atto è un po tirato via io adoro andrew garfield adoro emma stone mi era piaciuto 500 giorni insieme l'ho trovato molto brillante però che dirti a me non piacciono le cose né carne né pesce e raimi era fan 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 nel primo episodio con il nel secondo diventava una tragedia shespiriana meravigliosa meravigliosa grazie soprattutto a molina octopus una sceneggiatura brillante e questo film è molto serio vuole essere molto realistico però poi spider man scherza un po troppo velocemente se non mi piace questo è un po videogiocaro diciamo diciamo che c'è troppa differenza tra costume e non costume il personaggio cambia troppo questo l'ho trovata una contraddizione e poi il cattivo è pessimo ok non è piaciuto neanche mai tanto lizard ma rissi come si ci hai proprio anche no lui che va in giro rissi fans va in giro con un atteggiamento proprio da strada strafattone un po sembra proprio l'amico dei più grandi notting hill non va bene dentro spider man c'è anche all'inizio quando lo incontra molto un po roccano anche tante coincidenze ma è uno scienziato è proprio sbagliato l'attore rissi fans si porta dietro come tutti i grandi attori secondo me un un po una scia no nelle cose che ha fatto quindi rissi fans cosa pensate quando pensate a rissi fans simpatia rock and roll droga e amabilità uno stravaccato si è card connors uno scienziato che infatti il povero riss non è che ci mette non è che cambia quindi tu lo vedi nella scena che non va bene no diciamo che forse la cosa che è un po più debole in assoluto anzi la cosa più debole in assoluto è quella è proprio il villain nel senso in questo film hanno cercato ecco forse e c'è un po troppa carne al fuoco da questo punto di vista siccome serve un villain forte in realtà si concentra molto sul fatto che c'è lisa c'è questa creatura un po spaventosa ma forse non è abbastanza è orribile si non è fatto benissimo è orribile e andrea ma d'altro si apre la polemica tutto bello quasi apre la polemica non ho detto che un film perfetto qua si apre la polemica è un po difficile trovare un villain di spider man che riesca bene al cinema secondo me c'è spider funziona a parte octopus e c'è anche se no se men si però anche nei fumetti non è presentissimo goblin a me non ha mai convinto tantissimo l'ho trovato goblin era peso e nonostante avesse un un attore straordinario forse è stato lì che raimi è stato molto bravo ha scelto un attore straordinario e per scegliere cioè per fare per fare goblin comunque rissi fa cosa come non è un villano non potremmo mai pensarlo è il rissi fans no è un po sempre vai lì gli fai dai veniamo a prendere una birra andiamo a farci una canna insieme rissi fans va beh è sempre così comunque ultima cosa però è bastone proprio il cast a prescindere da lui il cast secondo me è Andrew Garfield è perfetto entra perfettamente nella parte di di spider di peter parker di questo peter parker completamente diverso da toby mcguire non è il toby non è il peter parker sfigato perché toby mcguire era veramente sfigato nel film qui è un po fighetto diventa un po troppo in fretta fighetto è disadattato troppo scherzoso quando è spider però è così il fumetto è disadattato però secondo me funziona molto bene insomma Dennis Leary non ci è piaciuto per niente è un capitano di polizia tutto d'un pezzo no secondo me funziona invece è che vabbè anche lì forse un po troppa carne al fuoco insomma comunque è il primo episodio infatti io non capisco il reboot lui dice che vediamo la generazione se lo capisce è il primo episodio adesso vediamo anche Reimi c'era il bacio che era meravigliosa la scena del bacio del bacio qua non c'è una scena che rimarrà no ok gli spoiler non diciamo niente è un inizio speriamo che ingrani grazie mille e alla prossima grazie a te complimenti per gli occhiali grazie a te grazie a te grazie a te